Ciao a tutte e a tutti, sono Marco Zuin, sono un regista e il regista dell'Anno dei Sette Inverni. Qualche mese fa Giorgio Gobbo mi ha fatto la proposta di collaborare con lui alle musiche e con Matteo Righetto alla scrittura di un progetto un po' insolito, quello di raccontare in una maniera astratta, attraverso una voce pensiero, l'ultimo anno che tutti abbiamo vissuto, l'ultimo anno di pandemia. Avevamo alcuni ingredienti sul tavolo, uno di questi era la location, doveva essere una location in montagna, una location dove speravamo arrivasse molta neve proprio per raccontare un rapporto uomo-natura difficile. Il protagonista dell'Anno dei Sette Inverni è Matteo, Matteo Righetto, che si è messo alla prova per la prima volta come attore, protagonista, appunto, e non abbiamo costruito in realtà un vero e proprio personaggio, un personaggio di finzione, ma abbiamo lavorato sulle sue caratteristiche. Il cammino dall'alba dei tempi è stato il primo modo in cui l'uomo si è avvicinato all'altro e ha conosciuto posti nuovi e diversi, quindi lo spostarsi è stato il primo modo in cui ci siamo messi in relazione con le altre persone. In questo caso il cammino di Matteo non lo porta a conoscere delle altre persone, se non in un incontro fugace con un musicista, che poi sarà Gobbo, ma cerca dei confini, cerca di capire quando questo inverno finirà, questo inverno che si è protratto molto oltre alla percezione delle stagioni che abbiamo. Quindi si trova in una situazione in cui non è previsto capire quando arriverà la fine e quando le cose cambieranno, ma questo non gli impedisce di avere uno sguardo e un modo di affrontare le cose in maniera non per forza positiva, ma con lo stupore ogni volta di trovarsi di fronte a quello che gli capita davanti. In parallelo a questo viviamo anche un'altra dimensione, che è quella del ricordo di Matteo. Lo facciamo grazie all'utilizzo di filmati di famiglia, proprio della famiglia Righetto, girati da Cesare, il papà di Matteo, all'inizio degli anni Ottanta. Sono materiali di famiglia che ripercorrono i momenti belli, i momenti legati alle vacanze e alla montagna soprattutto. In questi filmati, che appunto procedono come ricordi, vediamo un passato, un passato che in realtà è stato ed è e sarà quello che ci permette di affrontare quello che non conosciamo e quindi la fine, in questo caso, di una pandemia o la fine di un lungo inverno, di un gelo. Non sappiamo quando finirà, ma rimanere attaccato al ricordo, rimanere attaccato alle cose, alle relazioni anche che abbiamo e che abbiamo avuto, è il modo che ci permette di affrontare giorno dopo giorno le cose che ci succedono. L'anno dei sette inverni è un breve film diviso in sette episodi. Sono delle brevi puntate di alcuni minuti in cui vedremo un arco narrativo in cui appunto questo protagonista affronterà la natura. non è solo metafora di una chiusura forzata, non è solo una metafora della pandemia, ma può essere letta in un modo più ampio, proprio nel rapporto che abbiamo tra noi e la natura, che a volte sembra ostile, ma in base a come guardiamo e a come affrontiamo le cose, questa ostilità si può trasformare in appunto stupore e comprensione non solo di noi, ma anche di quello che ci sta attorno, per accettare l'isolamento, a volte anche la solitudine e affrontarla in una maniera positiva.